della gara, il primo gol, prego la regia di farlo partire, eccolo qua, che avesse che passa in vantaggio al trentesimo con Schetter, il parigio al terzo, pensate un po' voi di chi? Stefano Fiore, tra l'altro appena entrato dopo tre minuti Insomma, anche Fiore come un tempo, il suo sinistro e palla dentro e complimenti